Prima concorrente, pronta, guardate che sfidante! Secondo concorrente, guardate che forza! E terza concorrente, Magrolina, ma forte più che buono! Si inizia ragazzi, nuotate, bravi! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Yo-Ya e Ya-Ya! Oggi Yo-Ya-Ya faranno una sfida per vincere 1000 euro sopra questi gonfiabili! Ecco ragazzi, siamo... Ma è piccolissimo, dice Sara! E quindi? Sei convinta di vincerli facili questi 1000 euro? Sì! Sì? E tu Sonia? Ora troviamo Samuel, perché anche lui sarà uno sfidante contro zio Elvis! Ragazzi, siete pronti? Andiamo! A parte, avete un'ora di tempo! Samuel e Sara! È tanto poco! Un'ora è tantissimo per fare tutto quel percorso! Da laggiù, 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 mamma mia è enorme! Guardate quant'è, è lungo e gigantesco! Sei pronta? Oddio, guardate ragazzi! Ma lei vuole vincere! E anche lui vuole vincere! Anche lei è un po' intimorita? No! No, anche lei vuole vincere! E' tanto giusto che appena salgo di cattosino! No, non ti sottovalutare! Non ti sottovalutare! Perché sei come un gecko! Ti arrampichi tutti! Esatto! Sei gecko quindi! Chi è gatto boy? Chi è gufetta? E chi è gecko? E allora il gecko si arrampica! Siete i super pigiamini! Siete i super pigiamini! Io c'erano la velocità e le bucate! Tu hai anche vista! Quindi tu avvisti il pericolo! Noi! Così non ci vai! Mamma! Tu! Io ho visto il pericolo ma sto a volare più di volo! Ok! Ma avete capito che siete in squadra insieme? Sì! E quindi vi dovete aiutare! Tu con la tua super vista avvista tutto! Tu con la super velocità aiuta anche loro se cadono li riprendi in valvolo! E Sonia con la super presa vi prende anche lei! Ok! Super che c'ha Sonia? Sonia ha le mani appiccicose! Appiccicose! Quindi si appiccica e voi vi appiccicate a lei! Iniziate ragazzi! Io mi trovo lì al ponte! Guardatemi! Si inizia ragazzi! Nuotate! Bravi! Galleggia! E i sassolini! Fanno un pochino male! Tuffati Sonia! Tuffati! È bello! Non volevo tuffati! Eh ma nuota! Nuota! E divertitevi! Concorrente a bordo Ecco Sara che fa i suoi primi salta salta arriva Sonia ora salta papà e le fa volare in alto Papà Peter Pan ecco anche Samuel Inizia il percorso ragazzi inizia il percorso Sonia sopra la tortina a tre piani Ora dovrebbe fare un tuffo vediamo che cos'è no passa intorno al bordo perché al centro sarà sicuramente il vuoto Non deve cadere non deve cadere Non è caduta Sonia ce l'ha fatta oddio c'è uno scivolo Samuel No è Sara Lei è Sara Oh è Samuel Ora non vedo bene No è Sara Lei è Sara Una bella spinta da papà E boom boom Ora Samuel è oh allora Samuel piano 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 ce la fa Cadrà 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 nell'acqua No Non cade Eh sì ragazzi lì c'è il vuoto Ok Tutto intorno Che fine ha fatto Sara Sara è caduta nell'acqua No No Sara sta vicino al papà Ok Era un altro bambino Ora sono tutti i tre vicini Quel percorso è molto difficile Si stanno Guardate che fanno Papà bagna con l'acqua in modo che possono scivolare E loro devono strusciare con la pancia per passare Ok un modo furbo per non cadere Sonia è arrivata si fa un riposino Dovrebbe essere parecchio faticoso Ok No Aspetta ragazzi c'è un problema Sara sta nell'acqua No Sara è appesa a un filo Grande Sara La fatica è tanta non ce l'ha fatta Sarà brava vai Grande Uhuh Il divertimento più bello Il divertimento più bello oh no scivolatina ma non è in acqua brava ragazzi sala sta affrontando un percorso da sola brava sala sarà caduta nell'acqua un bambino cerca di afferrarla grazie grazie vai sarà forza vai ti sta aiutando vai amore ti sta aiutando ecco arriva sonia e il bambino sicuramente gli ha parlato in albanese si è intimorita ma una mano d'aiuto non si nega mai ok sonia gli ha consigliato di buttarsi e ricominciare da capo l'intelligenza di sonia ragazzi sonia è una volpetta furba come una volpe ragazzi bravi 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 super presa rettile troviamo Sonia che ha fatto una bella scivolata ora si riposa e riprende Sara dovrebbe stare dall'altra parte che qua non riusciamo a vederla ora io li lascio li divertire perché il loro percorso lo hanno completato wow hanno vinto 1000 euro da spiaggia di Saranda in Albania questo è tutto ciao al prossimo video